Io ringrazio Lilli per avermi invitato a questa bellissima manifestazione. Voglio essere sintetico al massimo perché parlando di arte, quindi letteratura, poesia, pittura, scultura, si parla la magnificenza di questo bellissimo paese che è l'Italia. Il centro di documentazione da Modigliani fa piacere essere qui perché a Modigliani i suoi capolavori sono ripresi spessissimo alla donna, la donna è al centro dell'arte di Modigliani. E quindi in tutto questo è un piacere di questo bellissimo tempo, di essere presente. In seconda battuta vorrei essere un'unità della società di Firenze che stiamo allestendo un importante evento da Modigliani che è la Toscana di Firenze al centro di questa istituzione. E quindi mi è un piacere essere qui stasera e rappresenta questa cosa. Per il resto ne è che da anni 8, da un po' della tua poesia ho potuto ascoltare con piacere ciò che è stato letto e vedere l'anima che viaggia all'interno di questa lettura è bellissima e fare complimenti a tutti le artisti che hanno sentito bene. Grazie. 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 Grazie.